Pensavate voi che io potevo stare in Peru e non fa una carbonara con la carne essiccata di alpaca? Dai io signoro con sta alpaca, fammola a pezzi, che poi noi se la mangiamo! Piamo sta alpaca e la mettiamo nell'acqua perché si deve distalare e poi abbiamo un bel regoto che è un peperoncino dell'Ippi, piccantissimo e lo buttiamo giù con un goccetto d'olio perché mica il guanciale che è tutto grasso quello è tutto magro che sta tutto il giorno a zompettare la pelleande lo famo rosolare bene bene e poi ci mettiamo uno sgomarello d'acqua calda di cottura della pasta e poi piamo il cacio, quello di bacca, delle ande piamo i rossi d'uovo e lo grattugiamo e la signora fa ciao ciao perché non sa quello che gli aspetta piamo il pepe e lo frantumiamo così perché è più buono e poi che fai? Stai sulle ande e non metti le foglie magiche nell'acqua di cottura della pasta? Certo che sì, è tutto magico! La pasta è italiana, la pasta è al dente e ecco qua il nostro ovo guardate che spettacolo la natura! Un altro po' di cacio andino e poi lo mangiamo!